Le emozioni che trasmettiamo quando giochiamo vengono viste sia dai bambini, dove siamo degli esempi, e anche da tutta la famiglia, quindi è un piacere riceverli e farli andare via con il sorriso. Se possiamo gli regaliamo le magliette, gli autografi, è bellissimo trasmettere queste emozioni. Tu prima hai praticamente dedicato la tua skyball a quel piccolo ragazzino che te l'aveva chiesta. Sì, all'inizio non me la sentivo, ma poi stavo un battuto e lui me l'ha chiesto, e ho detto va bene, la faccio, poi la faccio, abbiamo fatto un paio di punti, quindi poi è venuto e gli ho detto che le dava la canota dopo il torneo, quindi sì, è carissima lei. Prima lui diceva che sarà il tuo scudiero per permetterti di vincere e di diventare a questo punto un recordman per quanto riguarda il campionato italiano. Sei contento in maggio? Sì, beh, certo, senza dubbio. Sarebbe, se vinciamo anche questa volta, sarebbe il mio terzo scudetto di fila. Il primo era con Daniele Lupo, il secondo con Adrian. Quest'anno siamo qua di nuovo e cercheremo di, sì, mi darà una mano nella pientra per la terza volta. Grande, grande. Grazie mille. Grazie, ragazzi.